un saluto a tutti da Ciro e benvenuti in questo nuovo replay di Starcraft 2 subito dopo l'ultimo replay a breve distanza dall'ultimo replay che ho castato che è stato un po' corto mi sono sentito in dovere di portarvi appunto a breve distanza un altro replay dato che 9 minuti erano veramente pochi e vi porto un Protoss vs Zerg fra due giocatori non coreani questa volta ma siamo due giocatori dell'est Europa un russo e un ucraino due giocatori che non sono fra i più famosi dal punto di vista del panorama mondiale neanche europeo dal punto di vista europeo SIV è abbastanza conosciuto ma dal punto di vista mondiale non sono giocatori sicuramente fra i più famosi sono due giocatori però molto molto skillati quindi militano nella Grandmaster e sicuramente faranno vedere ottime cose la mappa è Vestigia di Belshir una mappa che lo dico sempre a me non piace e ha vantaggio secondo me spudoratamente lo Zerg però vedremo cosa riusciranno a combinare i nostri due pro player che sono FXO Minato giocatore ucraino classe 1993 che spawna Zerg in basso a destra di Vestigia di Belshir mentre in alto sinistro troviamo Empire Sieve giocatore forse più conosciuto ma nemmeno lui ha vinto tonnellate di trofei sicuramente è un russo che in ogni caso forse ho già castato mi pare di aver già castato qualche volta e è dotato di ottima skill di ottime APM di un ottimo micro quindi ci saprà sicuramente far divertire andremo a vedere come imposteranno il game presumo che ci sarà a breve una forza expand da parte del TOS abbiamo già visto il pilone posizionato in questa posizione quindi vedremo qui probabilmente una forgia un gate e un cibernetico naturalmente prima del gate il cibernetico ci sarà il Nexus anzi forse potrebbe arrivare il Nexus anche addirittura un Nexus first eccolo qua Nexus first per il TOS piazza subito l'espansione ancora prima del gate scelta abbastanza rischiosa ma non mi sembra che il giocatore Zerg sia intenzionato ad arrivare con un push cattivo a breve ha posizionato la pozza germinale abbastanza tardi quindi probabilmente andrà anche lui di un gioco di tipo di macro quindi probabilmente andremo anche a vedere una terza base probabilmente in questo punto qua molto più difficilmente qui per cercare di overmacrare il giocatore TOS ricordo lo dico sempre uno Zerg sempre una base in più deve sempre giocare con una base in più del proprio avversario che esso sia Terran o che esso sia Protoss lo Zerg fa proprio del numero di basi la sua potenza quindi solitamente quando un TOS va a prendersi una Forge Expand è norma e prassi che lo Zerg o lo pusci per sfondarlo oppure si vada a prendere una terza abbiamo come ho detto prima la Forge, i portali quindi nulla di nuovo al momento il cannone ripeto ricordo a tutti quelli che fanno la Forge Expand che non militano in leghe molto alte la vedo fare anche molta gente in lega bronzo e argento ottima scelta la Forge Expand però vi ricordo di non wallare già wallare con il pilone è una cosa abbastanza problematica perché il pilone ha solamente 400 di vita 200 di scudo e 200 di vita quindi è abbastanza facile tirarlo giù wallare col cannone è ancora più problematico perché la vita è solamente di 300 quindi vi conviene chiudere con strutture che hanno più o meno 1000 di vita avete la Forge a 400, il Gate a 500 e il centro cibernetico a 550-550 naturalmente sia di scudi che di vita quindi bisogna sempre moltiplicare per due terza Exp come voleva si dimostrare per Minato non so perché mi viene a chiamarlo Minimato Minato, non so come lo si possa pronunciare pozza germinale Zazu già giù naturalmente con l'incremento metabolico che ancora non è stato ricercato non abbiamo nemmeno gas per il giocatore ucraino e mi puzza sta cosa ancora niente gas vuole probabilmente concentrarsi molto sulla produzione dei droni 8 droni in produzione l'Exla sta per essere ultimata posiziona ora 2 gas li posiziona qua li posiziona in seconda sta per tirare fuori le regime che iniziano a spawnare amore spawnare larvette sul vivaio mentre da parte del TOS abbiamo un doppio gas in seconda con la ricerca dell'attacco del potenziamento all'armi terrestri livello 1 e già la ricerca del World Gate Technology in produzione vedo una sondina messa in posizione alquanto sospetta occultata vicino alla testa dello Zerg e una sonda messa in questa posizione qua mi puzza molto di Proxy Pylon andremo a vedere cosa deciderà di fare al momento non è stata scoutata quindi se ne sta qua bella e tranquilla vedremo ecco attenzione abbiamo 1, 2, 3 gate 3 gate viene tirato giù il sorvegliante quindi nega lo scout si va al giocatore Zerg sempre cosa buona e giusta se potete evitate che il vostro avversario vi scoute fuori ora il Mothership Core e abbiamo praticamente una 4 gate questa è una 4 gate dura e pura con naturalmente due basi quindi non è un 4 gate all in sono 4 portali che inizieranno a macinare roba e in ogni caso potrebbero dare un discreto fastidio allo Zerg che fra l'altro ora avendo perso quel sorvegliante anche su Pride Block è rimasto per qualche secondo su Pride Block adesso si è naturalmente rifatto subito ma attenzione perché parte la carica con l'ugolo della nave madre che gironzola sopra la Torre Xenaga e le imprese sono disabilitate fino a nuovo avviso molto interessante impossibile connettersi a Battle.net perfetto mi ha disconnesso da Battle.net dicevo si ecco qua dicevo si va a piazzare un un Pylon in questa posizione warpa 3 stalker anzi 4 stalker intanto Battle.net continua a stalkerarmi con messaggi di cui non me ne può fregare di meno attenzione 4 stalker anzi sono 5 stalker Mothership Core più Zilot ma ci sono già molti link in produzione abbiamo già un buon numero di link arrivano anche le blatte prova probabilmente a tirare giù il bivaio attenzione perché questi link sono veramente tanti le rocce attenzione viene completamente circondato bellissimo bellissimo questo questa mossa richiamo di massa da parte del Mothership Core che richiama tutte le unità e Mothership Core annesso ha una una qualsiasi base del del TOS che nel frattempo in ogni caso è riuscito a tenere un po' occupato lo zerga perde uno stalker praticamente in modo gratuito perde uno stalker in modo gratuito va giù un altro sorvegliante ma abbiamo qua altri 1, 2, 3, 4 gate quindi abbiamo 4 gate è un 8 gate questo è un 8 gate vi ricordo che su su Earth of the Sword una a due basi si possono leggere molte più strutture di quelle che si reggevano su Wings of Liberty perché dopo la patch le sonde minano molto più più velocemente hanno un rendimento leggermente non molto hanno un rendimento leggermente più veloce e questo vi consente di reggere un paio di strutture in più su due basi abbiamo un un tipo di build che mi sa molto di mi puzza molto di attacco con Blink Stalker perché abbiamo la ricerca di Blink non c'è la fabbrica robotica quindi Immortal probabilmente non ne vedremo e quindi potremo vedere degli attenzione si walla completamente con un pylon e quindi probabilmente deciderà di pushare porta dietro anche una sondina e dovrà stare molto attento a non perdere eventuali piloni perché non si sta portando dietro il 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 come caspita si chiama quel coso il prisma dimensionale non si sta portando indietro il prisma per per warpare unità grazie al raggio del prisma ma dovrà andare in giro piazzando piloni e attenzione perché i piloni sono molto fragili nel caso lo Zarker riuscisse a tirargli giù tutti questi piloni il Protoss non avrebbe più la possibilità di rifornirci l'unità e andrebbe praticamente incontro a una sconfitta dato che questo mi sa molto di all in abbiamo un mass un mass stalker ma attenzione perché ci sono già le Hydra la vedo veramente durissima per il giocatore il giocatore Protoss che dovrà fare i miracoli sia di micro con i forcefield sia di micro con il mothership sia soprattutto di micro utilizzando blink ottimi forcefield ottimi subito forcefield attenzione ricordo che ci sono sia i link che sono un counter perfetto per gli stalker sia soprattutto le Hydra che fanno un male atroce contro appunto gli stalker e anche gli zilot se sono tante le Hydra ottimo il la distorsione temporale che rallenta tutte le unità che ci sono a proprio interno ma guardate cosa sta facendo con blink in questo momento sta veramente facendo un miracolo il giocatore Protoss che ha scacciato via completamente tutte le Hydra e adesso deve riuscire in qualche modo a reagire a questa situazione minimato che sembrava in netto vantaggio dal punto di vista dell'armata ma si trova ora con una situazione veramente difficile guardate non riesce praticamente a fargli perdere un'unità sta blinkando le unità si ma andiamo a vedere le APM perché credo che sia una qualcosa di mostruosa 400 APM per lo Zer solamente 200 per il per il tosse ma guardate ha perso tutte le sentie in questo momento ma non sta perdendo gli stalker io una micro così l'ho vista veramente in rari casi l'ho vista fare da Baby Knight l'ho vista fare da Nazgul ma guardate cosa sta facendo praticamente tutti gli stalker feriti li sta blinkando indietro questa veramente richiede una skill veramente pazzesca e guardate non riesce sta spendendo unità unità minimato per counterare una cosa che al momento sembra incounterabile infatti perde completamente tutte le Hydra e deve dare il GG anzi non da GG dal wallplay e se l'è meritato se l'è meravente meritato Siv che ha dominato questa partita con un primo push che ha infastidito lo Zerg attestato un po' la situazione un secondo push che è stato veramente impossibile da fermare ha fatto prime miracoli con i forcefield distruggendo completamente tutti i Zergling del proprio avversario e poi ha fatto i miracoli con con i blink stalker che hanno avuto una volontà propria ogni stalker si blinkava da sé e ha veramente fatto capire a minimato quanto veramente può essere può essere forte il mass stalker con Blink una build che a me piace fare a me piace fare naturalmente non li so mi creare così ma a blink stalker vi garantisco che contro Zerg può fare veramente la differenza soprattutto nelle fasi iniziali naturalmente è stato veramente ancora più bravo perché lo Zerg non stava andando di Roach ma stava andando di Hydra che le Hydra sono veramente il counter degli stalker e se è riuscito a vincere se è riuscito a scioglierli in quel modo vuol dire che ha micrato veramente in modo eccesso detto questo io spero che questo replay e anche l'altro che ho postato qualche ora fa o al limite ieri adesso vedrò come castare questi due replay come postare sul canale questi due replay vi siano piaciuti se vi è piaciuto ripeto mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto a me non resta che salutarvi un saluto a tutti da Ciro ci sentiamo alla prossima grazie a tutti